è stata un'edizione rispetto all'anno scorso abbiamo cambiato diciamo l'approccio dove l'anno scorso siamo concentrati sulla stereofonia con la serie iend 5000 quest'anno abbiamo voluto proporre una soluzione audio video quindi home theater che però possa essere utile anche in un contesto di stereofonia per esempio utilizzando solo i due frontali l'NS F901 rispetto all'anno scorso abbiamo avuto un grande interesse per questa configurazione quindi confermo l'esito positivo di introdurre il settore video ci riteniamo molto soddisfatti anche dell'affluenza dei feedback ricevuti in particolare nella giornata di ieri dove la sala è stata è stata sempre ben frequentata quindi siamo contenti impianto volutamente a misura d'uomo un impianto che non vuole essere qualcosa di esoterico ma vuole un po far vedere come con un buon settaggio un buon posizionamento e con una spesa giusta si possono ottenere dei risultati molto buoni il sistema si compone del sintomplificatore integrato top di gamma rxa 3080 quindi una vantaggio dopo abbiamo la serie su avvo sugli speaker quindi nsf 901 nsc 901 nsb 901 per i diffusori sul ram per il subwoofer abbiamo invece sfruttato un subwoofer music cast il sub 100 che è abbinato in modalità wireless al sintomplificatore abbiamo comunque potuto impostare il crossover l'autocalibrazione ed è avvenuto fuori diciamo un suono ben bilanciato senza bassi invadenti ma centellinato anche per le dimensioni della stanza e si è rivelato molto buono sia negli ascolti diciamo orchestrali che durante le demo con dts o dolby thru hd grazie 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 a tutti